e questa puntata sa un po' di addio perché? perché Amadeus ha ufficializzato che se ne va dalla Rai vabbè lo sapete tutti se ne parla d'altro da giorni io ce ne sono rimasto sincero io non me l'aspettavo no neanche io per me la cosa è questa Fiorello ci ha ricamato sopra puntate su puntate dicendo che sembrava che succedeva ma non succede quindi sembrava più una burla a un certo punto che una cosa vera invece no annuncio Amadeus ha fatto pure le storie su Amadeus sono io e basta non ha twitter ragazzi ricordate manco io due vergi non ho twitter e non ho facebook cos'è che ha scritto? mi fa pisciare insomma ha dichiarato che passerà alla 9 quindi mi chiedo comunque al mondo discovery e mi chiedo manchiamo solo noi sul 9 cioè c'è spazio? ma voi sapete di chi è il 9? no è della Warner rega eh si dice i amicani pagano Amadeus ma è come se la Rai non pagasse ad Amadeus eh però voi mette cioè capito comunque gli spicci e il governo italiano quindi non lo so nel senso vattela a buttare a pesca io secondo me gli hanno dato un pacco di soldi ma no ma questo poco mi ha sicuro ma la Ferragna Sanremo aveva preso una un sacco di soldi a me mi mancherà Amadeus è un personaggio al quale io mi ero affezionato ha saputo fare breccia nei nostri cuori lo guarderemo sul 9 però in realtà siamo tristi ma questa cosa è effettiva da agosto perché il contratto scade il 31 agosto e Affari Tui dovrebbe chiudere a maggio se non sbaglio grazie no così presto che cazzo si guarda quella durante la cena? hai capito eh no perché poi comincia cosa c'è? reazione a catena? cosa c'è d'estate? reazione a catena è sul 5 no c'erai 1 ah reazione a catena si è quello prima del telegiornale si si però è prima alle 7 che cazzo c'è d'estate dopo del telegiornale cioè prima della prima serata eh te che te che te no? eh può essere boh e con questo sigla l'ora esatta è offerta da Sandro Bob il podcast è quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita è quando il dobbere ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina è quella finestra sul mondo dove puoi guardare o essere guardato è quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi ma che in compagnia ha tutt'altro sapore io sono Sandro e io sono Lele e questo questo è Bob il podcast ma ancora me ne ripete oi oi Sandro come ça va? allora ça va bien non so se tu prima hai citato hai detto perché è una puntata dove abbiamo perso tu gli amadeus io pensavo parlassi dei miei capelli ho detto ma mi stavo oggettivizzando che egocentrico perché abbiamo perso per la nostalgia pensavo dicessi qualche stronzata abbiamo perso sicuramente una giornata perché dobbiamo anzi fare delle scuse a delle patatine che ci attendevano domenica scorsa abbiamo avuto un po' di problemi tecnici amici però mi sento vicino a Jaden Smith e il suo sentirsi soldato Ryan in questo momento posso dire I feel the rain on my skin no one else can feel che poi si sta bene si sta bene qui ma si Daniel ha fatto un po' il meno drammatico questa cosa in realtà sta benissimo e secondo me lo sa però comunque fa tipo mia nonna che dice oddio che disordine in casa è tutto perfetto ma possiamo a parte totale che bello che smascheri così i miei meccanismi mentali però anzi bravo però posso dare un consiglio raga se avete bisogno di cambiamento fatelo siamo spesso più attaccati a determinate cose di quanto lo pensiamo poi mo ci abbiamo un botto di placement in ariete in questo momento guarda ti tira una scarpa allora ti tira una scarpa e stavolta dovremmo cambiare staff stavolta riprende scarpe scarpe siamo in un momento dove anche astrologicamente siamo molto impulsivi non vi dico che dovete fare le Britney Spears come me o Katy Perry in part of me perché mi dà fastidio che ogni volta che si pensa a una che si rasa per un mental breakdown si pensa solo a Britney c'è anche Katy Perry qua this is the part of me ma pure Rihanna può essere un periodo se la fata o in rude boy guarda tu è tutta ma stia come brut io adoravo i pixie cut Anna quelli tipo di love the way you lie devi saperli portare ma c'è un attimo un blocco Olivia Rodrigo sei mai fatta capire i corti corti io non credo no come si chiama c'è un effetto Mandela Olivia Rodrigo è la ragazzina capito che al collegio avrebbe pianto tutte le sue lacrime nel momento del taglio dei capelli io sento mio padre ascolta Vampire di Olivia Rodrigo e vederlo un po' commosso ma sono sicuro che non lo sa l'inglese quindi non so come chissà chissà cosa provasse che poi mi sa che è in tour Olivia può essere oh io ho visto dei video brava in culo io ci voglio andare un sacco anche perché tipo coinvolge un botto il pubblico mi hanno detto che è molto sonata però sì forse io ho visto le parti migliori del concerto cioè l'ho visto l'ho pensato molto godibile capito che dico voi tre che andate spesso a concerti voi siete ascoltati delle cagate che ora Olivia Rodrigo non mi sembra così ah non ci andrei perché è una pesci oddio non so come rispondere questa è una nuova puntata di un poteri non saperlo è mercoledì sono le 19 questo è un po' te vi non sapere e tu come stai invece l'abbiamo trascurata sta cosa è bene sei di ritorno da un viaggio marchigiano e ti ha fatto notare la Martina che è tornato l'ascolà l'anconetano un po' l'accento e mi ha spezzato il cuore sì perché adesso penso penseranno tutti che sono marchigiano ma in realtà da una parte sono contento sai cioè a Daniele li lo dicono tutti cioè che comunque si capisce che è marchigiano sentilo e a me invece non me lo dicono mai è che amo a me si sente quell'accento a te ti chiamano ciao uscolina chiedi di perché che schifo sei un'insaccata ascoltami tocca a me devo dire ma prima di cominciare c'è una situazione da ripresentare al pubblico che insomma insomma tutto ci tengo a precisare che non stavo dando dell'insaccata alla mia amica per fare body shaming ma perché lei ha un cuore tenerissimo dentro perché gli insaccati hanno il budelino un po' duro schifo un po' duro perché sono spalmabile e tu lo sai che quando ero ragazzino che magari tornava a casa dopo e i superiori quel momento in cui ti dicono sei abbastanza adulto per farti un pasto che dovrebbe avere tutte le vitamine che ti servono cosa più sbagliata perché non ce l'hai la mentalità per farlo io mi facevo la pasta tipo salsiccia e funghi ma non toglievo il budellino quindi si chiudevano in tipo delle pillole dei 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 salsiccia no ma ti giuro che schifo delle caramelle mi viene in mente la mia professoressa di religione che mangiava l'uva facendo e lasciava la pellicina aspetta quando fa tipo i lupolini come si chiamano sta facendo l'idea del risucchiare l'interno se non la vedono comunque io ho mai visto che cioè la buccia dell'uva non viene ma noi all'insegnante di religione che fa questa cosa all'ennesima buccia d'uva cosa gli diciamo quando la vediamo risucchiare amo ma che suz ma quello che pensavo io da piccolo che ha passato e lei fa tipo Anastasia che fa pray nel dubbio pray e voi ci ricordate che tocca a Sandro King John Pay l'hai fatto tu King John Pay no perché cioè aiuto allora si si non vada mai a professione culturale perché non se ne ricordi vi spiego perché ho sgranato gli occhi perché in realtà la mia notizia è ha comunque un trademark ha una firma sotto e è Martina Maiello conosciuta anche come Maiello Martina ah ok non capivo infatti ho detto che nostra nostra cara amica posso dire conoscente adesso amica allora diciamo che la sento vicina eh si sempre però spazialmente la sento molto vicina la Maiello Martina mi ha consigliato una notizia a fresca fresca che in realtà ha uno sviluppo di cinque anni ma che ultimamente sta nel senso che da cinque anni che ve la raccontate è nata cinque anni fa però in realtà ultimamente è molto molto virale sulle piattaforme soprattutto la parte femminile di tiktok perché parliamo molto la conosco quindi può essere non lo so ma qual è target mi sento io ovviamente come sempre voi mi conoscete devo fare un attimo un disclaimer perché è sicuramente un discorso piuttosto importante che per te la P è di premesse ricordiamo totale il problema è un altro che oltre ad essere un discorso piuttosto seri di importante diciamo che come sempre vi torno a ripetere non sono io la persona più adatta per farvi questo discorso il mio sarà uno spunto cioè io ho approfondito un po' la situazione ma siccome tratta di una cultura per noi lontana geograficamente e anche a livello un po' ideologico perché parliamo no parliamo della cultura coreana di base non posso ma secondo te me la consiglia Martina Maiello e non c'è in qualche modo in mezzo un bull duck Martina Maiello è quella che va col il kimono non è no e che cos'è coreano dimmi il ramen Martina ci sei non credo nemmeno Martina è una che sa ascoltare Blackpink all'euro esatto ok quindi oppure la Samsung è coreana famosa messa coreana non so se può aiutare attenzione la Toyota pure no la Giappo credo che ah ma però posso dire ma quanto cazzo ne sappiamo del Giappone totale ne sappiamo un sacco i macchine coreani sa siang la Suzuki la Suzuki la Kina è coreana Suzuki la Kinoa la Kinoa anche non lo so comunque non possiamo essere politicalists correct noi perché c'è sempre qualcuno che ci redarguisce tra le quattro siamo veramente dei maestrini allora e quindi quello che vi dicevo è dato che è una cultura che ha radici molto antiche molto diverse in una serata non sono palesemente riuscito ad entrare in un mondo così tanto diverso rispetto al mio quindi quello che voglio darvi è uno spunto una riflessione e anzi nel formulare il giudizio riguardo questa notizia ragazzi prima informiamoci per bene perché a prescindere da quello che vi dico io c'è molto altro perché mi faccio questo discorso ci sono mi sono toccato per sbaglio un capezzolo e anche quando lo faccio da solo faccio e quindi cerchiamo di rimettere le mani in un modo giusto scusaci corea allora il fatto è questo la Martina mi notifica un evento piuttosto insolito per la cultura coreana e soprattutto quella delle idols non parleremo di musica e delle idols ma è un pretesto per arrivare a qualcosa di più importante il fatto è che le idols hanno iniziato ad annunciare pubblicamente attraverso i social in generale i loro fidanzamenti il fatto che le loro liaison amorose le loro relazioni e è una cosa insolita come avevamo già detto in qualche puntata ma forse 40 puntate fa è insolito per le idol dichiarare le proprie relazioni amorose perché loro devono creare questo bond questo legame con il pubblico di ragazza desiderabile disponibile sempre aperta al comunque al maschio io ho capito e tu lo sai che una volta Martina mi ha fatto vedere uno di questi video e mi ha fatto io non capivo ovviamente perché anche i sottotitoli lei me l'avrebbe detto dopo il significato mi fa vedere questo video di questa ragazza in primissimo piano che parlava davanti alla videocamera e diceva delle cose ed era molto disperata io pensavo fosse una persona che era scappata da una prigione di un altro stato io le faccio ah ma questa ragazza è stata appena ripresa nella sua paese mi fa no sta facendo delle scuse perché l'hanno sgamata che c'è il fidanz e io in che senso infatti è una cosa importante proprio perché cioè questo parla molto della notizia di cui voglio parlare perché è proprio una cosa molto coreana loro proprio presentarsi come ragazzi angelo cioè devono essere quasi una cosa effimera non reale capito ma figurati infatti però in maniera più platonica cioè comunque i maschi vanno brazzo brazzo allora se un mafia ci insegna che c'è ma non si dice esatto ma pensa che in Giappone sia un po' così comunque uno è più abetti in Giappone eccoci perché nel senso comunque qua se io e lui a San Benedetto andiamo al corso e ci prendiamo eh comunque c'è un over 80 che fa finok finok oppure qualcuno che fischia perché guarda che stacco da gambe e lo chiamavano coscia lunga al conero allora quindi il fatto è questo le idols hanno tirato fuori questo argomento e ci siamo iniziati a chiedere a mo che suz perché iniziare adesso a fare una cosa del genere c'è un fatto importantissimo in Corea che uno dei motivi per cui abbiamo questo fatto è il movimento di cui vi voglio parlare la Corea è attualmente forse il più ma non voglio azzardarmi nel dire il più ma è tra i paesi con il più alto il più basso tasso di natalità del mondo Corea del Sud Corea del Sud sì sì sempre la parte civilizzata perché del resto non si interessa che non è il minor numero il paese quel minor numero di bambine che si chiamano natalità un missile io gli stringo la mano ma che è successo? è perché ho sfidato lui cioè ho sfidato Corea del ah perché faceva tu pensavo Gesù ho detto cate ti ha bestemmiato no 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 il nord ho sfidato il nord l'inverno sta arrivando ma quindi di base è questo la Corea del Sud ovviamente è il paese con tra i più bassi tassi di natalità del world e raga ma c'è tipo che c'è tipo lo 0,7 uno 0,7 di bambino per donna cioè si parla lascia un braccio basso ogni mille abitanti circa 6,8 nascite mille ok ora noi non possiamo fare tanto i fighi su questa cosa perché l'Italia è poco più su nella classifica cioè loro arrivano tipo a 6,8 noi stiamo a 7 7,2 non so quali paesi contano perché io ho dei palazzi a cento buchi che io ne frignano perché i ragazzini ci stanno il più mi sembra il primo attuale in classifica l'ho visto ieri su wikipedia ma mi sa mi sbaglio può essere che mi sbaglio no è tipo il congo comunque un paese africano con il 44 cioè loro hanno 44 nascite ogni mille abitanti noi stiamo a 7 scarsi ok ora ci sono tanti è un fenomeno molto complesso le cause sono tante non diciamo che economiche in primis perché pure magari quelle coppie indipendentemente dal sesso che magari hanno un istinto materno paterno o genitoriale dal minuto 3 al minuto 4 fanno quando me costi infatti sono aumentati i numeri di beagle i beagles ce ne stanno molti di più in giro a milano credo è più probabile vedere mamma parlare di genitori con cani rispetto a bambini il discorso è questo ovviamente è un fenomeno molto complesso quello il calo demografico e la natalità POV non è sicuramente l'ambito esatto corretto anche perché nel senso almeno io e te natalità amo a massimo Natalia il sabato sera quando ci chiamiamo così o la Rosalia il problema però è un altro è che tra le cause della bassa natalità in Corea c'è un movimento che dal 2019 si sta facendo sta facendo molto parlare soprattutto la Corea stessa cioè all'interno del paese perché per diverso tempo è rimasta una cosa legata molto alla nazione è uscita in realtà nel mondo dopo del 2023 perché c'è stato un articolo sulla rivista Decat americana che ha approfondito la questione e da lì si è iniziata a parlarne e i social hanno fatto poi il resto cioè su TikTok ne parlano tantissimo questo movimento si chiama Forbeez 4B 4B ed è ah pensavo per le api Forbeez e c'è un motivo in realtà che è tutto ovviamente molto sudcoreano e perché non impolliniamo più capito queste 4B è perché il movimento si fonda su 4 4No e sono 4 parole sudcoreane che iniziano tutti per B B I che è il suffisso coreano per dire no cioè è praticamente i 4No è all'interno proprio del nome stesso quali sono i 4No? raga io un po' secondo me vi stupisco perché fa molto chiacchiare questa cosa uno è No 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 anche No blowjob hai capito? comunque sono tutte parole coreano il bambino che fa tan 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 tanto no però aspetta chiariscimi solo una cosa mentre questo quel coglione questo movimento serve per non procreare per invogliarti è un movimento femminista quindi riguarda solo radicale femminista che riguarda solo solo le donne ma è proprio quello il problema la puntata parla cioè il mio intervento sarà proprio sulla differenza di genere cioè noi parleremo della distinzione uomo-donna all'interno della società coreana in maniera molto tranquilla e però vi vorrei far riflettere perché loro combattono tanto ma noi non è che stiamo messi tanto meglio e le 4B che vi dicevo sono molto radicali dal punto di vista femminista perché loro dicono no al matrimonio etero all'avere figli con uomini quindi avere figli in generale alle relazioni romantiche etero e al sesso etero cioè loro le donne etero hanno detto noi coi coreani non vogliamo niente a che fa non vogliamo né fidanzarci con loro né procreare con loro ma non perché siano saffiche per forza cioè loro possono anche amare il fagiolin ma tutti etero di un'altra nation uomo solo coreano o uomo all'interno solo coreano loro è quello che fanno in realtà verso tutti però l'idea è comunque limitare il contatto con l'uomo coreano perché il problema è legato alla società coreana lei mi dice se viene il forestiero accogliono nel sentiero se viene il nostrano amico no no vai lontano no ci sono 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 coglione loro è nato questo movimento questo movimento è nato nel 2019 e i primi risultati di questo movimento li stiamo notando oggi è la start up fra i motivi per cui la natalità è bassa è perché ci sono donne un numero di donne molto impreciso perché è difficile stimare quante hanno aderito al movimento che hanno deciso di non procreare più cioè hanno smesso di figliare perché hanno aderito è palese e si stima che la cifra totale più o meno era il 2023 il dato oscilla fra i 4.000 donne alle 50.000 donne è molto difficile da determinarlo perché a volte non è scontato sono tante e noi quello che stiamo registrando adesso però i fondi di fondo sono in questo range non lo diciamo e il fatto è che proprio perché è nato è nato nel 2019 questo movimento adesso noi stiamo notando i primi effetti prodotti dalla scelta di queste donne perché il tasso già molto basso di natalità della Corea sta scendendo pure di più ok e quindi raga da una parte è che è pau dall'altra se lei vi posso dire cioè loro stanno bloccando proprio l'evoluzione esatto la sopravvivenza e la cosa divertente che per quanto può essere divertente mi ha fatto un po' ride se voi cercate il movimento 4B su TikTok di base le reazioni delle ragazze in generale di chi ne parla sono tutti molto divertiti in realtà cioè noi la vediamo in maniera un po' tragica probabilmente perché percepiamo gli effetti ma su TikTok in realtà ne ridono tanto perché dicono è molto coreano anche il mood l'attitude dell'affrontare questo movimento perché loro hanno detto palesemente oh noi ci abbiamo provato abbiamo cercato il dialogo abbiamo sperato che cambiaste non volete cambiare? tiè ma che cosa voglio tu non me lo occhi più io non sto capendo cosa vogliono cambiare? non far più figli significa non portare avanti la specie contro cosa si muovono? il movimento 4B è l'obiettivo di queste donne non è assolutamente uccidere l'uomo loro vogliono stirpare totalmente cambiare la società coreana perché è misogina e patriarcale cioè loro sono contro ma ragazzi il problema è capito perché in realtà siamo tutti in questa situazione ma la Corea è famosa per essere una società avere una società misogina Alessandro dei live di Twitch delle ragazze che quando la gente va magari in Oriente magari anche può essere a Corea non lo so anche se nello specifico che ci sta gente che le importuna che le segue per chilometri e queste vanno a chiedere aiuto alla gente che sta facendo le live su Twitch che gli fa please help me this guy following me insomma ma cosa guardi cosa guardi su Twitch ma va bene no no su TikTok non è che a me capita non è che sto tutto il giorno vediamo chi viene inseguito io lo farei senza lo farei no ma il problema io capisco quando si racconta del movimento 4b c'è una grandissima quantità di gente che reagisce dicendo ma siete pazzi oddio ma cos'è aiuto che pau è vero cioè nel senso gli effetti possono essere negativi palesemente cioè proprio all'atto pratico però bisogna un attimo calarsi in un contesto molto diverso dal nostro era per questo la premessa che vi ho fatto all'inizio è molto facile cadere nel giudizio affrettato riguardo una cosa che di base non comprendiamo fino in fondo la cultura coreana la società coreana si basa su tipo il precetto tipo della famiglia confuciana che è molto simile in realtà anche a un po' alla famiglia cattolica che vede proprio la distinzione dei ruoli di genere la separazione dei lavori proprio in casa cioè di cosa devi fare tu da uomo e tu da donna all'interno della famiglia e da sempre le donne coreane hanno cercato di sovvertire la situazione perché è proprio radicato a livello proprio profondo da generazione e generazione e generazione e generazioni che le donne debbano fare delle cose che i uomini non possono fare non devono fare e viceversa ma soprattutto visto che c'è tipo anche un divario salariale importantissimo cioè in Corea sono dati un po' relativi non prendete tutto con le pinze ripeto sempre sta cosa si stima che una donna a parità di competenza di un uomo guadagna circa il 40% di meno raga il 40% ma ci stiamo capendo a parità di competenze quindi c'è anche da chiedersi non tanto aiuto che pao quali sono gli effetti la domanda secondo me da porsi su questa cosa è perché cioè perché arrivare al punto di dire non me tocchi non te voglio io che vita schifo via ciao e c'è un po' da riflettere su sta roba pensa quanto è sentita cioè come incombenza sulle donne tantissimo è strano che non le abbiano sterminate tutte no ma lo dico con cattiveria lo dico che quando cioè è un pensiero molto forte da portare strano che la Corea non sia intervenita intervenita ciao infatti quello che sta cercando di fare proprio a livello un po' governativo la Corea perché se le idols si espongono così tanto è un po' una mossa fatta a livello comunitario cioè non è che Gesù che a un certo punto si è svegliata e dice adesso dico che sto fidanzi quindi è più una è un modo sostanziale per andare ad invogliare le persone a parlare di relazioni di stringersi in relazioni amorose perché il trend attuale è non farlo cioè è non fidanzarsi una cosa una delle idol che si è fidanzata è Catrina Catrina mi pare della Espa con un attore questi sono stati fidanzati cinque settimane e poi lui la sua agenzia ha dichiarato che lui l'ha lasciata perché si doveva concentrare sul lavoro cioè nel senso quindi non ce la fanno neanche così cioè la cosa che mi diverte è che loro adesso devo cioè la Corea ha talmente tanto bisogno di porre rimedio al movimento delle quattro bis 4 bis ho adorato il movimento 4 bis perché ha voluto una S qua è 4 bis ah 4 bis delle 4 bis cioè il movimento dei quattro no a tal punto da convincere un sistema radicato importante come quello delle idol di diraga potete farvi fidanz per smuovere la cosa ma il punto non è una cioè il punto non è solo farvi fidanz ma figliare perché perdonami il problema è che queste mo devono fare fichi fichi e devono figliare non è solo ti devi mettere con uno ti devi mettere e devi fare i ragazzini ma c'è anche da dire una cosa la Corea in realtà ha fatto diverse leggi per aiutare a diminuire il gap fra i due generi che comunque vi dico a prescindere dalle leggi ci vuole anche un cambio culturale che è molto più lungo molto più difficile ma siamo arrivati al punto in cui non so se è attuale questa cosa se è di qualche anno fa ma ho letto che c'è stata una proposta del governo di praticamente pagare le donne per farle figliare cioè dare un contributo statale nel momento in cui rimane incinta perché la situazione è molto più grave del previsto e si stima che se il movimento 4b cresca in qualche modo continua ad aggiungere adepte si potrebbero anche avere delle intere generazioni senza senza persone cioè con molti meno a livello scolastico avere le scuole vuote capito che roba e già adesso questa roba si nota amo un giorno faranno ma di che anno sei del 2021 cazzo siete in sette vai in quella classe siamo tre la scuola alimentare di sanno totale totale che eravamo in nove ma il fatto è non è comunque cosa? voglio farci una domanda dimmi dimmi partendo dal presupposto che comunque la corea è molto 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 attenta alla divulgazione delle cose queste qua come hanno fatto a far partire l'idea come hanno fatto a diffonderla è internet quello che ho visto io è tutto legato no quella è Cina quella è nord il nord ah ragazzi ma sono completato in testa infatti stavo continuando a dire ma cazzo ma come stanno facendo a fare sta roba ok siamo in corea del sud non in corea del nord no si è tutto comunque le blackpink isenapurea no sono del sud si si è un movimento cioè penso sia quasi totalmente diffuso attraverso l'online come praticamente tutto ormai ma il fatto è che non è un tipo di movimento solo ideologico cioè quello che propongono è uno stile di vita diverso cioè la donna che si aggiunge al movimento 4b molto spesso si taglia i capelli per protesta perché c'è molto comunque anche la volontà di respingere i canoni estetici coreani perché loro hanno questo canone importantissimo estetico che noi dall'Europa praticamente quasi non comprendiamo perché sono molto più restrittivi i loro tipi di canoni anche molto diversi dai nostri e dicono di solito si tagliano i capelli non si fidanzano più cioè smettono di avere relazioni sentimentali con uomini alcune nemmeno amicizie con uomini perché la loro vita in realtà è mossa e l'obiettivo è quello di essere indipendenti dall'uomo non ce la farei mai totale infatti quanto è quotato il fatto che Zizi prima scrive una del 4b e dopo dieci giorni fa no raga dai no Zizi inventa anche il simbolo ufficiale che è 4b che con esatto le mani sulle spalle no ma soprattutto la mia classe ci si sarebbe chiamata palesemente alle superiori perché io facevo la b quindi sicuramente il movimento 4b sarebbe stato il nome del gruppo whatsapp volevo facci anche un po' di battute sulle classi però dico vabbè ci arriverà Daniele per lasciare i sommati no ma quello che dico io è soprattutto è un movimento radicale che non è però nato dal nulla cioè questa è una cosa che dovremmo un attimo secondo me toccare ci sono stati tanti movimenti femministi radicali e importanti in Corea anche molto hai fatto la docente di matematica che quando il ragazzino scrive 8 scrive 8 cosa pere mele questo movimento non è nato dal nulla l'uomo di misura esatto cosa sono 8 patate la mia diceva sempre patate e ti facci il fatto è questo è che nonostante tutto la Corea ha avuto un sacco di movimenti femministi secondo me anche interessantissimi e io ho approfondito veramente la superficie della superficie ma hanno anche un tasso di un cambiamento di tasso di donne laureate grandissimo cioè loro tipo 30 anni fa avevano tipo mi pare il 40% il 50% delle donne coreane laureate ora superano il 70% tipo il 74% una cosa così sono tipo tantissime raga noi non arriviamo penso che non arriviamo al 50% in mezzo all'istata fai dottoressa no ci sono pazzi sì e uno dei altri movimenti collegati al 4b è il movimento del rimuovi il corsetto che secondo me è interessantissimo tanto quanto il 4b mostra il tuo petto e questo si basava come in realtà ha anche il 4b sulla volontà di togliere qualsiasi tipo di legame con l'estatica coreana imposta cioè loro è anche molto precedente è prima del 4b e la loro la loro volontà è quella di dire raga io faccio come mi pare perché non voglio essere sotto le regole di nessuno e soprattutto dicono seguire questi questi canoni estetici e raga sono tipo molto molto stringenti ve lo ripeto finché non muoio molto più dei nostri loro dicono è anche difficile proprio da donna perché abbiamo una quantità di spesa proprio economica in più rispetto a un uomo che a volte non possiamo sostenere perché non ce lo possiamo permette quindi a prescindere dal fatto che sia costoso o meno basta con questi cazzo di canoni ci hanno rotto le palle quindi donne rapate capito e è molto più azzardato rispetto ad una ad una ragazza italiana rapata questo vorrei vorrei far capire non voglio fare il marchigiano genovese però io ho risparmiato 20 euro rasandomi a casa sentendomi veramente I know I'm a young e pensa che però se ti viene un po' il ciclo e devi comprare gli assorbenti quanto cazzo costano eh lasciami stare capisci hai capito e poi devi prendere quelli determinati per la tua pelle perché se io prendo l'inesè mi viene una E proprio oh è vero raga comunque sottolineo I'm a man che lei ti fa come stai eh nonostante tutto I'm a man quindi la mia la mia visione è comunque parziale ma finché posso finché campo e finché c'è pov io dirò sempre viva le donne ma poi che men capito ma nel senso I'm a man io non lo so da dimmi se forse un po' presuppo un po' ti dico un po' da fighetto sarà un altro pezzo che cropperemo dimmi ascoltami secondo te cioè tu non senti la questione femminile molto viva cioè la disparità di genere tu non la vivi non la vivi cioè non la percepisci forte come cosa da morire ve lo giuro raga cioè a volte mi capita di parlare anche con altri uomini che non percepiscono l'urgenza e non l'importanza però la vedono secondo me tendono un po' a sminuire la questione di genere capito e invece io la sento proprio forte lo dimostra il fatto che comunque noi siamo uomini ascoltami questo discorso è come quando mia madre mi dice scherzando se stai zitto non si capisce perché poi apro bocca e tutte fanno ah ok la barba ma non la userà contro di noi ti ricordi quando io stavo sul ponte della riburtina l'ho già detto a questi microfoni comunque quella ragazza ha cominciato a piottare perché mi vedeva dietro e magari appunto non è che potevo fare amo cioè mi vedeva camminare a priori io mi rendo conto che la mia persona per il gender per l'espressione di genere che io ho e che mi manifesto ha un suo potere nel patriarcato che è orribile e io volendomi ci distaccare ma cercando di affibbiarmi c'era in certe situazioni capisco quello che dici non posso non farla mia perché nei confronti di certi occhi se non contestualizzato io potrei essere la causa quella ragazza anche lui eh cioè anche se quella ragazza si è spaventata io ero la causa del suo malessere in quel momento quindi io sento vicino alla causa perché mi sento affibbiato pure se non sono un uomo etero cis un'immagine perché la mia espressione di genere o comunque e quindi dico oh io non voglio però incute timore a una donna che è in mezzo di strada solo perché io ho il cazzo non va bene non va bene infatti dovremmo iniziare a camminare di più con le braccia con i polsi spezzati tant'è che poi a un certo punto ho cominciato a camminare tipo fosse veramente nomi smalls da dupol come per dire amo legs legs what's in the menu se si da walk e lei si è sentita al sicuro finalmente e quindi la questione è questa ci saranno sviluppi perché in realtà è stimato che questo 4b si sta sviluppando e crescendo in maniera molto importante e anche è difficile un po' controllare già non controllarla misurarla quindi tutto quello che succede sarà un po' imprevedibile però trovo figo 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 tutto questo soprattutto perché è una risposta proprio cazzuta e tra l'altro mi è venuto in mente perché per quanto top yes slay queens raga le coreane non sono state le prime a fare una cosa del genere perché faccio un attimo aumento cultura ma giuro però io non mi sento a fine cioè io non lo so se è brutto da dire per me ogni forma di estremismo è sbagliata cioè sento già mi padre che mi fa comunque ogni forma di estremismo è sbagliata cioè a priori non credo che privare forme genealogiche attraverso la riproduzione possa essere un modo valido non ti dico neanche procreare dei ragazzini che poi li impedisci di vivere con altri uomini e li cresci solo in un mondo di soli donne penso cioè nel senso dovremmo trovare la mediazione non so ma loro non lo fanno per fanno dispetto no 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 aspetta non nel senso non perché è quello che volevi dire tu però c'è nel senso non è che si privano loro di qualcosa che vogliono loro dicono non abbiamo i mezzi ci trattate male neanche ci hanno voglia di farle queste cose ok ok ma il fatto è questo è vero che il fine non giustifica i mezzi cioè nel senso un po' quello che dicevi tu è un po' questo loro dicono non lo facciamo per questi motivi non quindi non procreiamo per me a volte il fine giustifica i mezzi cioè loro secondo me nel momento in cui vivono in un contesto del genere anche io farei una cosa così ma perché sei l'unico modo per essere ascoltata dire io non vi voglio mi avete rotto i coglioni anche io lo farei zizi mi hai stupito aspetta io pensavo che zizi era invece facessi tu il contraddittorio capito mi hai stupito però quello che dico io è che se un'ipotetica zizi in Corea del Sud è innamorata di un brash coreano però mi devi sempre pensare all'interno di un contesto coreano quindi anche lì il brash mi sputerebbe in pace assolutamente no totale cioè io quello che quello che intendevo è giusto però cioè spero che nessuno cioè spero che nessuna si sia nessuna donna si sia privando di qualcosa ma che l'abbia fatto come scelta consapevole certo hai capito certo c'è anche il lato cioè ovviamente ogni cosa ha un lato della tua medaglia e anche tu dici cioè anche il tuo magari ci sarà una tra queste donne che lo vuole fare il bambino ma poi dice no preferisco anche io mettermi in questo movimento perché l'ideale è comunque affine al mio esatto esatto sì anche perché a prescindere dal fatto che tu sia molto convinta di farlo è comunque una privazione cioè nel senso scelgono di privarsi di qualcosa in nome di qualcosa di più alto cioè questa è l'idea ma raga comunque vuoi fare il momento cultura che ho la sigla di super quark totale sì 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 no mi piscio eh ma questa è cultura un giorno ci ricorderemo delle pub oh è cult ok ancora pub hanno messo un sacco di come si chiama i pre roll il fatto è questo non so se si sentirà sotto c'è la musichetta veramente super quark in questa stanzetta vai Sandro questa storia il movimento 4b mi ha ricordato in realtà una commedia greca andeca ve lo giuro a Antigone brava amo di Antigone l'isistrata si chiama amo guarda che io ho fatto un esame di cultura classica ho preso 30 mi piscio sotto perché in realtà cioè cari coreane siete top ma non siete le prime perché anche se Antigone ne parla qualcun altro l'ha fatto prima di voi questa era un po' l'idea con un po' di provocazione ma anche molto meno sull'isistrata in realtà c'è la privazione del sesso da parte delle donne per fare in modo che avvenga la pace cioè dato che gli uomini volevano continuare la guerra che adesso non mi ricordo nemmeno che tipo di guerra fosse però l'idea era le donne si sono unite e dire basta smettiamo di dargliela finché questi non fanno l'armistizio non vogliono la pace e arrivano arrivano quello che cioè volevano gli uomini dopo un'astinenza continua ripetuta è una commedia quindi si ride è tipo lo stile ve lo giuro ricorda un po' i cinepanettoni ma il messaggio è molto più profondo capito lo stile è proprio un po' quello quindi si vedono un po' cose cioè il contesto è diversissimo è tutto molto più divertente però mi ha ricordato un sacco l'esista da questa cosa e alla fine della commedia arrivano alla pace cioè in nome della Vagij loro fanno la pace quindi chissà se prima o poi qualcosa succede in nome della Vagij ma secondo me ragionate il fatto che è la Vagij che muove l'uomo perché ti rendi un pelo di che un carro di voi ma tu ti rendi conto poi che questi uomini vanno trattati dobbiamo essere trattati come bambini a quanto pare perché devi andare devi andare di privazione perché tu hai i bambini non è che cerchi di insegnargli le cose tu gli devi togliere il giocattolo e vedi ti senti male senza il giocattolo e poi ricompensa esatto e quindi fatti la ridiamo sì la cosa è quella ti giuro farà brividire capo di Skinner con gli esperimenti sui topi se prendi la cosa se prendi il croccantino ti dà un premietto se no scossa chi diamo la scossa esatto tipo Pretty Little Liars è la casa delle bambole quindi niente ragioniamo pensiamo e se volete aggiungervi il movimento 4b link in bio non è vero non c'ho nessun link da darvi quindi cercatelo voi le mie saranno 4p solo e 4 pensieri perché ci voglio riflettere mi hai dato mi hai dato uno spunto di riflessione questo è quello mi raccomando non giudicate all'apparenza approfondire e poi esatto bravo cioè bravo perché magari una notizia del genere vista da e c'ho 6-7 nomi in testa c'ho un po' power sul telefono che scuole fa guarda queste che stanno a fascinenza invece no bravo Sandro no perché conosco 3-4 no un po' di più persone che avrebbero fatto guarda queste facendomelo vedere ma c'è una paura di parlare questa cosa sapete niente Sandro invece come diciamo sempre e qui ti puoi sentire veramente con degli amici veri ciao posso andare sul divano? certo esatto chiamate no va battuta è caduto fai rumore sì 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 questo era lo stacchetto un giorno ci metteremo un bidroll mi raccomando esatto ascoltatele ora alza un po' i toni facci divertire un po' perché ho fatto il peso quindi state esatto ho delle aspettative verso di te e questo farei in modo che io te le deluda tutte infatti voglio vedere allora in realtà ne voglio approfittare perché Sandro prima aveva dato un bellissimo gancio per cominciare questo momento puntata perché tu prima mi hai parlato di Boom un podcast che in realtà tu hai consigliato anche nei momenti passati no? sì Bucay of Madness sì sì a Boom infatti Boom scusate è che io sono abituato a Cozzizzi ormai che dico Boom io ho pensato Boom 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 Arros Villan no 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 ricorda ancora che è un podcast true crime di queste due girls che fanno questo bellissimo è nel senso scusate perdo monete dal culo è per questo che non vogliamo darvela Sissi esatto perché c'è la gallina delle uova d'oro e Sissi delle monete nel culo e magari fossero banconote ognuno ha il suo elemento magico e insomma tu Boom mi dicevi che loro hanno comprato un mixer e per tutta la puntata hanno avuto questa voce che poi hanno scoperto riascoltando la puntata nuova con questo nuovo mixer una voce tutta sì sì e per te e per noi è stato provvidenziale perché scoprirete nelle prossime puntate che noi accoglieremo un mixer che è il quinto popoletto di Pop esatto non pensavo lo volessi annunciata per te perché non potevo sì sì mi serviva come gancio perché pensavo non lo facessi capito no perché mi serviva come gancio perché per te questo è stato un po' un segnale angelico cioè è stato un po' un segnale che ti è arrivato perché tu sarai prevenuto nel momento in cui accadrà a noi totale che faremmo 6.500 prove prendendoci un intero perché riregistrare per noi è la morte c'è questo da dire soprattutto non so se voi ci seguite da un po' ci sono capitate puntate dove Sandro la teleported to Mars io invece avevo delle voci che sembravo flipper e sono momenti in cui post questi momenti io e Sandro facciamo sempre facciamo prove audio che durano 8 minuti tipo delle puntate pop un periodo non le facevamo manco più un giorno Patreon esatto che cosa c'è la cosa che io vi porto in realtà molto interessante sono i numeri angelici lo sai che la posta il segnale angelico i numeri angelici esatto sono delle manifestazioni il concetto di manifesti manifesting Gianni Denucci ce ne insegna un sacco sicuro ma possibile padatina un megabazzo che lei si mette là con gli ingenzi e fa ammo crediti quella Jenny guarda è riuscita a creare cioè ho un'associazione fortissima se uno dice manifesting io ve lo giuro il mio cervello dice Gianni Denucci cioè la prima cosa che penso tantissimo sì io penso subito a lei ma perché proprio le ha fatto un po' il suo manifesto è credibile quando lo faccio ne sono altre che scrivono sui tranquini dicono i problemi della mia vita anche perché Gianni Denucci ha anche un movimento molto pro psicologo cioè è importante fare un certo tipo di percorso non lo denigriamo non pensiamo più che la psicologia o come certi percorsi siano da persone che abbiano dei problemi mentali è molto bello quello che fa no raga stavo ridendo perché l'avo Jenny ma ti amo ma vi ricordate l'audio tutto bene? sei in taxi? sei sola? l'audio che dovevi ascoltare? sì lei ha fatto questi audio per le ragazze che da mettere Zizi mi scrive all'improvviso quando Zizi prende il taxi ogni tanto mi manda dei messaggi tipo comincia a parlare con me e sai ogni volta che gli ho fatto tipo ad alta voce è fregno l'autista e io che facevo partire a tutto volume e Gianni Denucci invece ha fatto queste finte videochiamate con l'amica tipo di ascoltare in caso di emergenza però come stai? ok solo che tu ti rimbara il copione a memoria e io dico Jenny qua non siamo tutti attrici non abbiamo fatto tutti la volontà cioè no la Zizi che amo come stai sono in taxi e la domanda ci sono sputacchio la domanda poi e come ti senti? sono in taxi ma sei arrivata a casa ho chiamato Uber che mangi stasera? buonanotte guarda ci sono qua io no insomma dopo sto sputacchio che ho fatto io sono diventato flipper veramente stavolta i numeri angelici sì torniamo questa sorta di misticismo credenza che c'è un pochino oggi giorno ma ha portato un po' anche perché se sei amico di Zizi o amica di Zizi ogni tanto lei è quella che ti fa che ti fa ma che succede? c'è un 17 lì perché è il suo numero e quindi tu fai che cazzo vuol dire? perché i numeri angelici che cosa sono? i numeri angelici sono delle sequenze degli schemi di numeri ripetuti che hanno un significato spirituale per la persona che li vede ok il significato però non deve essere per forza spirituale perché i numeri angelici possono anche avere una matrice laica cioè non devi per forza collegarli alla religione può anche essere importante perché tu hai una tua spiritualità personale laica credi nel potere dell'acqua del magnesio supremo che cazzo ne so e se tu vieni tante volte il 17 non vuoi dire per forza Gesù mi dice qualcosa può essere anche il karma le energie mi stanno dicendo qualcosa infatti questi è un numero fortunato per me 17 17 e 13 bravo si 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 13 maggio ma davvero 17 fortunato? no no pesca la manzia fa lo scemo che vuole copiare i tuoi il nome della sfiga diventa fortunato i numeri angelici sono sia oggettivi che soggettivi cioè io vi faremo poi tra un po' un test in realtà per scoprire qual è il nostro numero angelico in realtà poi mannaggia a me non si ha portato poi faremo uno stacchetto un attimo per le penne e i righelli stavano a dire che ti serve se tu vuoi dirci che sei un angelo no i righelli ti serve è impazzito soggettivi invece perché il numero angelico anche se non è oggettivo cioè risultante da una formula che poi vi spiego può anche essere un numero che per voi è angelico perché vi è capitato tante volte nel corso della vita e quindi per voi è diventato quasi oggettivo perché è oggettivo per voi cioè lo vedete a me tante volte tu non sblocchi mai il telefono a una determinata ora tipo a me capita sempre alle 11.11 io sblocco tantissimo ma alle 11.11 io ho 1.11 come numeri angelici raga eh ma infatti io raga invece sto a pensare no però aspetta potresti farci attenzione da adesso perché ti dico in realtà io in questo momento con voi mi sento un po' una guida un insegnante spirituale perché qui dice che io che vi dico no raga però approfondite io sono cafone Daniele io sono la vostra guida spirituale voi dovete vederci ragazzi sono andata in Danzaia tre minuti ho fatto yoga e ora mi sento rimanata Renata secondo gli insegnanti spirituali questi numeri angelici sono dei messaggi da parte di angeli custodio dall'universo spirituale in generale capito ma segnali in qualche modo ai quali tu puoi credere o meno cioè ci deve essere una sorta di misticismo un po' in te non è per forza un'oggettività nel comunicarci di sotto però molto spesso esatto ma se me lo dice venga poi amo altro o come mi fa Sandro ogni tanto che quando voglio cantare coi testicoli mi fa fai un falsetto lei lei dovete sentirlo sarà stato tre ottave sotto quando cantavamo insieme mi dico ma ce la faranno stavo cantando una canzone qualsiasi Sandro mi fa no spesa spesa all'indist Daniel all'indist scusa lui mi bacchettava sempre per il controcampo perché io non ci riesco a farlo controcampo controcampo campo e controcampo canto e controcanto non ve la meritate voi Martino perché mi sono detto insegnante spirituale perché a quanto pare alla visione dei numeri angelici vi ci deve anche un po' portare qualcuno cioè delle volte noi li capiamo nei momenti in cui sblocchiamo la vista quindi io paradossalmente per le tante orecchie o occhi se ci guardate anche che siamo qui io potrei essere un attivatore cioè tu adesso non lo sapevi Zizi ha 16.000 numeri angelici che non so perché non se rigioca ora ci avremmo 16 led tu invece non li hai ma magari ora li sblocchi perché li noti tu sei il mio attivatore io non ce la faccio così però nel senso sei tu il mio attivatore fammessela fammessela allora come sono questi numeri come possono apparire possono essere sia palesi sia anche un po' nascosti perché non sono sempre la palissiani ok tu non hai visto ogni tanto Zizi che fa c'è un diciastette ma in realtà è una lattina e una banana a metà che tu fai amo sei le convulsioni quello è un diciastette sai cosa dice la leggenda che Zizi a volte si è tanto così ripiegata su se stessa che lei diventata un diciassette capito tu sai che lei può fare un diciassette da sola hai presente quando il video che lo ritocca dove la gente fa L it's all the way in piscina dove fanno L E V no no L O V E lei li fa la sola Zizi è in grado di diventare un sedici se vuole con le gambe capito sedici e tre e credici possono essere palesi o nascosti e questo dipende anche dall'intensità a me è venuto da dire con cui ci crede anche il tuo angelo cioè se se veramente il messaggio è palese che l'angelo ti vuole far vedere un diciassette te lo spiattella là se invece magari l'angelo dice io non so perché tipo che ne so se il cinque vuol dire attenda magari a un bivio non è una cosa sicura però non è sicuro manco l'angelo che ti sta a guardare e fa amo io il cinque te lo metto un po' nascosto cioè tipo tra le merendine della kinder se me lo guardi bene magari lo vedi amo io totale da angelo ti metterei tipo i numeri a fanculo in mezzo amo tipo in mezzo a un campo di grano a una spiga capito o se hai visto Good Place comunque c'è una gerarchia di gente che ce la vola dietro quindi io sarei attento a mettere i segnali e il luogo dove noi li vediamo è molto importante in realtà io li vedo sempre in strada attenzione per strada sì perché? eh perché tu lo sai che vuol dire? no nemmeno io però volevo dire c'è molta gente che si è sentita vicino a Zizia che ha detto per strada pure io ho avuto un momento di panico io vedo gente ferma sulla Togliatti che fa fermo ma non lo sappiamo il dove è importante perché ci permette anche di dare un significato un po' primario grezzo al messaggio che vediamo cioè se ad esempio lo vediamo su una targa potrebbe significare che siamo sulla strada giusta perché la vedi su una macchina capito? quindi il luogo se lo vediamo su una prenotazione potrebbe significare che l'opportunità che stiamo andando il viaggio che stiamo andando a fare potrebbe darci una nuova opportunità amorosa se è un viaggio se è lavorativo magari intrattieni una collaborazione mi sento quelle mistiche sulla set che quando non sai come sfoi fai tanti 5 euro e ti dico qualcosa e tu dalla tipa che si è incazzata ha mandato le maledizioni a quello che io ho detto totale che è macchina dove fai gli scherzi alla famiglia totale sei lei tutta anche numeri di telefono e orologi ma gli orologi ho visto che hanno un po' di più potere se sono fermi perché se sto in movimento è una sfiga però tu qual è che hai fatto togliere? no in live eravamo perché si dice una volta eravamo in live uno ha fatto potete togliere tra la live l'orologio fermo perché porta iiella però l'orologio fermo in realtà se tu vai a casa di un'amica tua che non conoscevi e si è fermato proprio all'orario che per te è un po' mistico ha ancora più rilevanza perché si poteva fermare a tutti gli orari possibili mentre quello che si muove è una volta al giorno della zecca quello che mi viene da chiedere è questo il significato dietro all'esempio se il numero lo vedi in una targa è la via giusta è una cosa che va interpretato da te che percepisci il numero o è un'interpretazione invece data da da qualcun altro? diciamo che la cosa che ho capito da questa ricerca è che i numeri hanno un valore loro proprio univoco che un po' ti può dire qualcosa cioè hai trovato su una targa il 5 quindi è come il pianeta col segno cioè esatto quello che ti voglio dire è che le interpretazioni sono già state fatte cioè non stanno noi percepiamo i numeri c'è sempre una parte di soggettività importante che ho riscontrato essere anche di più dell'astrologia sei troppo empirico è vero scusate tu mi sei molto fattuale amo pensavo ci fosse un po' di regola dietro devo viaggiare nel senso scusate adesso parto è molto anche quanto tu ci vuoi credere a questa cosa e ti posso dire delle volte è bello crederci anche perché se non ti nel senso ti dà delle scariche di endorfina cioè immaginarti il fatto che Zizi va a un esame ok e vede 17 3 secondi prima magari non è quel 17 che le farà prendere il 30 all'onde che si merita però magari in quel momento ti hai illuso che stessi sul percorso giusto perché magari il 17 ad esempio non è un numero cardine per i numeri angelici nella numerologia perché lo sono soltanto quelli dall'1 al 10 e 11 22 e 33 per Zizi però il 17 è muy importante e quindi magari per lei non vuol dire nuovi inizi o trend e lode però magari per lei va bene lo prendi perché magari gli fa sentire essere con la giusta io ogni volta che lo vedo tipo molta paura perché io non ho mai non riesco a capire se è una cosa che mi sta dicendo dagli è tutta o se è una merda allora quello che ti dico io è io sfido qualcuno a rompere il cazzo sui numeri angelici perché un conto è che ti dicono se vedi il 14 devi sfondare le vetrine degli orologiai un conto è che te danno a te un'endorfina per andare a un esame perché l'hai visto cioè è una cosa molto non innocua e ingenua è tipo la Felix Felicis tu la puoi bere o meno ma l'importante è crederci capito che te dico però qui c'è una dose di soggettività molto importante più dell'astrologia mi sa che sono arrivato al mio numero cioè credo che io ho un legame un po' con il 6 cioè è una cosa che mi capita di vederlo tanto lo sai che è molto bello anche soprattutto quando è ripetuto tre volte perché top molti lo dico no no 666 oggi lo sdoganiamo fanculo fanculo a Satan ho detto ho detto seitan non spendo i piani ho detto seitan e allora infatti adesso che abbiamo un pochino capito di cosa stiamo parlando e magari già in questo ascolto varie orecchie hanno un po' riscontrato i loro numeri specifici e possiamo fare un po' allora i numeri ho trovato il primo giochino che volevo fare qui con voi perché ho trovato il significato riscontrando vari siti dei nove significati credo siano nove non sbaglio dall'111 al 999 ah ok ognuno c'è il suo vai esatto in brevissimo soltanto che siccome sono molto situazionali aneddotici e mentre li leggevo e li segnavo ho pensato ma do ti immagini trovarlo in quella situazione facciamo un giochino qui del immagina la situa cioè ad esempio esempio 111 se lo vedete questo terzetto ha una grande valenza ah perché facciamo una piccola cosa ok che possono avere valenza per voi soggettivamente però hanno molta importanza ripeto i numeri dall'1 al 9 11 22 33 i terzetti e le serie di numeri ripetuti tipo 123 1010 1212 soltanto che ce ne sono una cifra e io vedevo Sandro che se ne segnava altri 4 faceva da cos'è una puntata angelica Carolina il pin del banco ma a te non è un numero angelico però potrebbe essere un luogo molto interessante capito se vuoi condividi nel senso io col tipo che esce allora e questo è un discrame molto importante io da oggi inviterei di guardare non il telefono al tipo con il quale è stato uscendo quando vai in bagno ma la carta di credito e manco per fotte gli soldi per vedere se trovate una combinazione angelica che magari che ne sai c'è un arcangelo Gabriele davanti a voi e voi non lo sapete e allora 111 è probabili nuovi inizi e scelte sagge cioè se trovate 11 che Marti mi diceva prima vuol dire un inizio buono tipo veramente se lo trovate sulla carta di credito del tipo con quale uscite stacce stacce ma io sto pisciando c'è i ragazzi con cui esco io guardo la mia carta di credito non io ti rubo a loro ti immagini uno beccati ma che stavi a fare ruba i soldi è il numero angelico giuro stavo a vedere il numero angelico lo facevo per gli angeli esatto e qui vedo 666 e da lì TSO 222 è un invito all'equilibrio cioè fermati a riflettere cioè se il tuo ex ti manda un messaggio alle 2 e 22 di notte dicendo mi manchi ci rivediamo amo fermati carolina fermati cazzo perché è il sistema che ti sta dicendo qualcosa 333 gli angeli custodi sono vicini a me a te amo e ti danno forza e coraggio quindi se prima di un esame vedi il bus che prendi e il 333 so gli angeli che sai di amo ci sono quando le devi fare se da me vaffanculo speriamo che il fidanz che ti scrive alle 333 non ti scriva perché stavo a dormire però questa forza e coraggio 444 sei sulla strada giusta esatto un attimo che però 404 invece ci sbagliato tutto perché è error 444 quindi sai che ne so che ne so stai andando a farti la tua trombata su tinder e davanti a te la targa della macchina vedi un tipo che ha il semaforo è fermo e c'ha 444 amo te la meriti tu ti meriti quella chiavata e te lo stai l'angelo che intanto ti vedrà perché attenta perché non sei sola e non è alfa che dice e vai te lo dice l'angelo tu lo sai che da bambino mia madre fortemente cattolica che mi diceva questa cosa che ci avevamo angeli eccetera io con le prime seghette ci avevo un po' io c'ho un po' paura ho detto quando cazzo mi stanno a guardare anche per quella spirituale gli attire tutti gli angeli sparite 555 cambiamento in arrivo quindi nel senso se mi state a rifà la casa e a mondo convenienza la cucina vi ricosta 555 sappiate che la dovete buttare perché un bambino in arrivo credo che questo sia difficile da trovare se è tipo il 4 il 3 sono numeri 1 il 2 sono numeri ripetuti facilmente in generale invece 555 stai a piazza Bologna per rivederti con il tipo con il quale esci da un pochino e non sai come andrà perché dovete parlare delle cose un po' più serie vi dovete vedere alle 6 ma tu fai 5 minuti d'anticipo perché sei una matta come te come me come tizzi come Marti e sono le 555 ok questo mi piscia porca vacca amo vediamoci più tardi 666 raga non è un numero malvagio i numeri anzezi che prendono molto anche dalla numerologia ci dicono che in realtà non è malvagio ma è un invito a liberarsi dall'ansia mentale che mi viene in realtà se vedo 666 capito io se vedo 666 comincio a pensare che mi sta seguire ma perché devil fa meno paura detto in inglese cioè tipo io e the devil faccio io e il diavolo faccio ma che doja cat è stata lei capito lei ci ha insegnato a comunicare con la parte un po' più oscura ma non con i kittens eh i kittens non ti ricordi i fans di doja no pensavo anche con i kittens comunque non mi farà 666 il numero del diavolo facciamo nostre 777 è un simbolo invece di illuminazione spirituale nel senso che ne sai se lo stai a vedere in un negozio di lampade 888 mai visto successo professionale e guadagni materiali non so manco come metterlo perché ho le pezze al culo hai ragione l'888 forse è anche peggio del 555 però se ce lo scriviamo noi cioè se io prima di andare via ti lascio un 888 in camera che ne sai ma magari esatto io ti lascio un bigliettino con scritto 888 e tu tra un mese e mezzo metti la mano in tasca guardi oddio oh se qualcuno ha decidito gli 883 lo vado a completare con gli inventi almeno un po' di fortuna materiale 999 invece è la fine e l'inizio cioè se lo vedete vuol dire che non è come l'111 che qualcosa di nuovo arriva senza che niente termini 999 vuol dire che se qualcosa arriva qualcosa mi deve terminare nel senso pensateci e cioè se il vostro treno ha 999 minuti nel senso che paolo senti ah ma aspetta domani è una cifra di tempo che cosa ho portato qui un attimo cerchiamo il nostro numero anzelico che in realtà qui lo faremo in un modo un pochino più veloce vati piena penna se ce l'hai intorno a te abbiamo sempre di solito apri un po' il cassetto mazzico ah quante cose da scoppiare c'ha un sacco di sai quelle cose di plastica con l'aria che c'è sempre il genitore che ti fa la smetti Daniele il pluribol il pluribol il pluribol e allora il numero angelico ognuno di noi possiede un numero angelico che cos'è il numero angelico è una sequenza numerica specifica un codice univoco che ok che lo possiamo calcolare anche attraverso una regola che ora vi dico due in realtà ma è anche ma io voglio sapere il mio mo lo calcoliamo stiamo facendo questo ma è anche deve essere anche qualcosa che voi sentite riverberare con voi quindi il 17 magari non capiterà nel calcolo però è palesemente il numero di tizzi ragazzi capita ti senti urlo non potrebbe perché potrebbe capitare ma come numero che devi ancora semplificare che faremo un po' di matematica qui oggi mi sento che paura allora come è composto il numero angelico può essere a una cifra o a numeri maestri a una cifra ti va a indicare una tua cazzo di caratteristica molto specifica che come dire mi dici il tuo singolo zodiacale ok mentre i numeri maestri che sono quindi più di uno è un po' la tua carta natale invece cioè mi fai vedere un pochino più cose di te che succede come si calcola si può calcolare o con la data di nascita in questo ordine mese giorno e anno all'americanx all'americanx e mese se 6 settembre è 0,9 non solo 9 anche se poi il 0 non lo condi non lo so ve lo fa la matta invece poi perché settembre perché è il suo io sono stato settembre perché è il suo mese ma anche iniziano a fare in questo giorno e metà a settembre mentre l'altro è col nome di nascita completo inteso come nome e cognome ma se ti chiami Matilde Sofì devi mettere Matilde Sofì Crespi e Martina come fa? che è Martina Concetta Maiello eh non lo so pensa Chiara Maria Sole Carlotta Crespi io 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 Concetta pure Concettina Concettina allora facciamo quello con la data di nascita che è il più carino come funziona mese giorno e anno lo mettiamo come numeri quindi io sono 0,9 giorno 0,3 anno 1,996 quindi non solo il 96 ma tutto l'anno con 4 cifre queste cifre ora le andate a staccare quindi io avrò 0 più 9 le andate a staccare e sommare quindi 0 più 9 più 0 più 3 più 1 più 9 bla 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 aspetta dimmo cosa faccia fai lo vogliamo dire che lo facciamo con la calcatrice sì perché comunque abbiamo fatto non è facile abbiamo fatto lingue e comunque cose spirituali 9 più 3 più 1 più 9 più 9 più 6 qual è? 37 37 che non è un numero maestro tipo ma dobbiamo sommarlo ancora quindi 10 3 più 7 7 più 10 che è ancora sommato è 1 il mio numero maestro è 1 fosse stato 11 lo lasciavo il mio numero maestro è 1 quindi deve essere sempre un numero tra 1 a 9 o come dicevamo prima di 11 22 e 33 giusto? sì esatto questo mio numero che è il mio numero maestro il mio numero ha una cifra in realtà il mio numero maestro potrebbe essere tranquillamente 11 o 111 cioè il numero maestro è o la ripetizione del vostro numero perché abbiamo capito che per la non per la numerologia e per i numeri angelici i terzi sono molto più importanti dei binomi ok sì 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 giusto binomio cioè due bizzetti perché se è terzetti bizzetti quarzetti quinquetti e animaletti quindi questo è l'uno ma l'avrei potuto fare anche in un altro modo cioè con il mio nome e cognome dove il mio nome attraverso come si chiama una tabella numerologica cioè che ne so A B C D la D vale 4 io so Daniele quindi ad ogni lettera corrisponde un numero tipo il codice fiscale bravissimo tu sommi quelli del tuo primo nome del tuo secondo nome se ce l'hai che ne so Maria Concetta e del tuo cognome li sommi separatamente però attenzione in quel caso se voi avete che ne so un primo nome un secondo nome un cognome avete già un primo terzetto attenzione cioè l'ha già da vedere però diciamo che tutte queste formule mirano a farti trovare almeno il numero univoco ok sommando tutto e lì poi giochi dobbiamo capire 11 22 33 o se vi dovesse già trovare un numero per voi speciale dai come lo fai il mio e amo il tuo allora tu sei nata il 7 agosto del no ma che gennaio è il dia razone si non ti ricordo si è 13 0 5 è il diazone però poi ho pensato sono mandato una direzione esatto è capitato 0 5 perché avevo detto no la dama ha scritta così ma penso 13 1 9 9 8 allora eh mo non faccio la quella che spende tempo allora allora 5 mettila più 1 più 3 più 1 più 9 più 9 più 8 36 36 che è 9 sai cosa vuol dire se è il fine inizio lei invece è perché perché ricordatevi con i terzetti che vi ho dato vi ho dato anche delle mini interpretazioni che potete andare a ricercare dei cos'è il numero univoco cioè se il 9 9 9 vuol dire ehm ehm più fine inizi se però è anche il vostro numero univoco il solo 9 magari è perché sia le persone che potrebbero avere problemi con i 9 inizi anche perché quelle fine i numeri angelici sono anche molto soggettivi perché si collegano anche molto con l'astrologia ho visto cioè se voi siete una una toro che ha bisogno che ne so un po' di stabilità e magari riscontrate il 17 ogni volta che cambiate casa non sono io a dovervi dire che 1 più 1 fa 2 cioè capito questi collegamenti vogliono anche che siate molto voi il perno di questi collegamenti semantici non c'è un libro che si c'è un libro che vi dice che da 1 a 9 hanno più o meno quel significato ma vi dovete un po' calare ma io ragazzi siamo fritti cioè quindi dopo adesso dopo tutta la menata tor ascendente sole luna adesso pure con il numero non finisce più non ti piace io adoro no voglio ci manchiamo qui a Martina ah ok no sai perché ti volevo dire perché ad esempio io da ragazzino io sono nato il 3 però ogni volta che giocavamo da ragazzino a fare guardie a lati perché a chi faceva il guardie a chi i ladri facciamo si buttano giù e sommavamo i numeri e io istintivamente non so perché avevo sempre il 4 uno in più rispetto al 3 il mio e l'ho sempre odiato anche perché io amo i numeri pari scusa ma amo i numeri dispari non quelli pari però questo 4 a me ritorna e sai che il 4 è se è sulla strada giusta cioè ogni volta che mi è capitato poi nella mia vita di trovare 4 4 ripetuti e io ne ho uno sotto casa porca vacca ma in particolare è sempre quando sono un po' travagliato del non mi sento sui binari perché io ho sempre questo problema di sentirmi decentrato quindi mi fa paura sta cosa perché poi ho detto oddio non la li vedo io prendo in centro e prendo il 44 amo perché sei sulla strada giusta capisci vado a piazza Venezia bravo ma cosa falla tu allora tu sei 6 e 8 marti e 8 che l'hai sommato già che abbiamo visto che è bene i materiali infatti lei è una spendacciona si quando vedi un 8 forse è il caso che quel portafoglio te lo ficchi là dentro le orecchie quando io vedo il 9 cosa devo fare scappare quando vedi il 9 no forse è il momento che ti dicono no perché in realtà l'insegnamento grande di questa di questa numeri angelici è ti devi fermare i flette cioè educa un po' le persone a dire che sia vero o meno comunque è sempre bello fermarsi a di oh perché se ci pensi poi zizi è un 9 ma potrebbe essere anche un 6 rovesciato totta quindi soprattutto non vi fermate tipo zizi sulle strisce pedonali se viene un 17 non vi dovete fermare sempre ogni tanto vi dovete camminare faccio il mio facciamo il mio esatto che è 26 io sì 26 0 5 4 9 9 per ragione mio amore 0 4 9 9 9 5 ti stavo guardando della giovane amo sommami per favore 2 più 6 aspetta stavo guardando il significato del numero 9 non ce la faccio ah esatto poi mo cercatevi magari facciamo spendere un pomeriggio così tra gli amizi o a scuola tra i banchi le ha scritto cosa vuol dire 9 2 più 6 2 più aspetta io voglio le bio di instagram con gente che fa e tu quando sei angelica da 1 a 9 qual è il tuo numero angelico nella bio metti l'angelo è il numero vicino scusami lui è 26 26 2 6 più 5 più 1 più 4 che 5 hai ragione cazzo 2 lo faccio da sola tu sei nato il 26 aprile 1995 esatto quindi 2 più 6 più 4 non mi piace aprile perché devo essere data a maggio non ho capito perché poi saresti gemelli con quella data 36 36 anche tu 9 sei tu di 95 sì anche tu con 9 anch'io sono 9 mi sento un po' fine inizio io ti posso dire cioè tipo alfa e omega com'è in greco sì oh io ti dico sempre io sono tutti e due sono complesso un po' di pesce mangialo e concludo tutto questo in realtà con una cosa che mi piace pensare che un po' mi connoti all'interno di questo podcast un po' di psicologia spicciola non dire come dice nel senso in realtà alcuni scienziati comunque persone studiosi si sono approcciati a quelle che io chiamo le zizzis cioè amiche che ti fanno ah mo ho visto un 4 quindi eh quindi io stasera mangio pesce perché? che cazzo vuol dire? cioè come hai creato questo ragionamento collegato così? questo fenomeno in psicologia si chiama apofenia cioè l'apofenia è un errore di percezione che è stato coniato nel 58 da uno psichiatra dal nome Klaus Conrad secondo il quale l'essere umano identifica delle connessioni semantiche logiche per inferenza anche deduzione da cose che non c'entrano un cazzo niente quindi il fatto che noi vediamo tipo sul video che ti dicono se stai aspettando il segno per comprarti la macchina nuova è questo qui cioè quelle cose così magari veramente è questo qui però perché ce lo rivedi tu però nel senso sei tu che crei questa è l'apofenia esatto cioè se io stasera magari è come quando stai dal dentista senti il regalo mio più grande e fai iscrivo poi gli iscrivo quella è un'apofenia cioè l'hai creato tu quel collegamento e va bene però poi non mi va a andare a piangere pensa tipo dai ti faccio un esempio così a caso giuro mi è venuto in mente così tipo stai per tipo ti devi ti devi lasciare con il fidanz e per andare cioè a casa del fidanz tamponi fai un piccolo tamponamento anche questo è un se c'è capito quando ho rotto io la mia relazione e io sono entrato dentro all'MA e c'era single soon di serena gomez ok ok che ha be single soon amo quello non è un angelo quello è Gabriele che ha fatto a tutti attacchiamolo e poi assurdo poi come serena gomez il singolo successivo sarà very soon oppure now e dici mai i regret this mai i regret this va a far culo scusate per Ariana Grande è stata un simbolo angelico per non so quante persone che in questo periodo hanno trovato la forza per di amo we can't be friends esatto ma a quanto pare l'apofenia è un fenomeno molto frequente all'interno di fenomeni paranormali religiosi mistici teorie del complotto cioè perché comunque sei tu a riandare cercare un collegamento su ste cose ok concludo con una cosa divertente che ho trovato c'è una specie di sottocategoria dell'apofenia che è la pareidolia la pareidolia sì cioè è il riscontrare dei volti umani all'interno di figure inanimate come vede i volti umani nelle nuvole o la gente che vede Gesù Cristo sul toss sì 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 padre Pio padre Pio che con le mattonelle del secendo fanno vedi quel volto e gli faccio ma chi è cioè padre Pio che dal paradiso dice ragazzi ve la smettete di vedervi in giro cioè mi lasciate in pace a buona volta tu non hai capito io qui ho un neo a forma di cuore che lo vorrei far vedere veramente a chiung perché è vero non voglio fare l'apofenia è l'apofenia una volta l'ho detto stavo con un ragazzo così a chiacchiera e mi fa guarda pure io amo ti giuro io stavo cercando di capire poteva essere veramente un fiume non era un cazzo non era un cazzo di cuore quel neo anzi gli vorremmo una controllatina un check ci sono 16 colori forse è il caso quindi quello che abbiamo scoperto è che ci siamo due nove un otto e un uno e che bello tu potevi essere solo l'uno comunque da pensaci un attimo e noi sono il nove però amo ricordati gli ultimi saranno i primi però posso dire almeno siamo tutti finanziati da Martina che con l'otto ci spesa i nuovi inizi perché a cosa siamo tutti così ti posso aggiungere un attimo un livello di lettura avevamo detto che la numerologia con l'astrologia c'entra gli esisti siamo accomunati sia dal segno che dal numero poi lei ha una una luna di merda dicendo la stupenda però ecco ti rendi conto forse gli esisti siamo più legati di quello che pensate oh ma poi che paura il messi insieme fa 1998 che è l'anno di tizi perché è 1-9-9-8 oddio è l'anno di tizi no amo sai che vuol dire questo è che se mettiamo i nostri numeri in fila sono 1-9-9-8 e l'anno di tizi dobbiamo cacciare la pop dai oppure perché perché è la fine è la fine è il nuovo inizio è la fine di pop cerchiamo un grafico del 97 grazie allora basta che è 1-99 e 1-97 ma non si quello che vuoi ci scrive è un grafico ma posso fare il grande paraculo di questo mondo quando quando chi ci ascolta non capisce che è uno scherzo quello di cerchiamo un nuovo grafico è perché sanno che tu non sei solo la grafica tu sei un tassello importante di questa esistenza quindi dicono forse è vero che cercano perché tanto zizi non è solo quello zizi è anche qualcosa di più raga eccomi esatto un po' tutti angelici tra donne che combattono come dicevi tu perché gli uomini le vorrebbero angelo e invece altre persone che aspettano numeri angelici noi siamo qui tra le schiere dantesche che cazzo ne so sono un po' cibarellato oggi beh è arrivato il momento della nostra rubrica preferita esatto quella dove adesso sono cazzi nostri perché dobbiamo dimostrare di essere in grado di non evitare questo punto altrimenti capiscono che ci abbiamo messo 60 minuti quindi jingle linkami non so se vedrai che faccio così voi non avete capito zizi secondo me è una cutness evergreen assurda evergreen no evergreen perché è sempre brava a lanciare le pezzi raga no veramente voi non mi capite oggi non siamo del 98 e io non so del maggio soprattutto allora tocca a me perché sono stato il primo a parlare il 16 marzo 13 marzo no forse il 16 no no io la sbaglio sempre 13 è il 16 marzo 13 marzo mi sembra 13 a me ascolta vai allora no io ho parlato del movimento 4b e di quello che succede in corea fra i uomini e le donne invece ho parlato del fatto che se ogni tanto pamela vedi un 14 14 o un 17 forse è il caso che ti reggi le tette perché mia madre mia madre lo fa come gesto scaramantico gli uomini si reggono i tessicoli tutte amore mamma entrambe e io ogni tanto le ho fatto le sono cadute mi fanno no no è che ho visto che ne so la vedo ogni tanto dal salumiere scusa Ivano ma poi sai secondo me poi so cose che tipo dipendono da paure passate che abbiamo io ho visto gente urlasse ho visto piccioni bianchi no toccati perché ti sei eccitata capato ti posso dire i gatti neri basta il black cat shaming so carino quello è come a casa quello è come in bocca al lupo i gatti neri in realtà non sono che in bocca al lupo la gente dice io ho crepi no amo non è crepi speriamo non muogli la presa viva il lupo il gatto nero in realtà porta bene porta bene rivendichiamo questa cosa quindi dobbiamo dobbiamo dare le nostre paroline esatto e cominci tu Sandro che pauri perché non lo pensate lo sapete allora io no io vi dico se vuoi le mie prima vai di perché io ce l'ho mia è angelo che però ti chiederai di chiamare di scriverla angelo ma c'è daniele non hai capito non hai capito se dio va fa gut e renga scusa è angelo prenditi cura di lei di zizi di zizi angelo angelo scusate e psicosi perché in realtà il nostro caro claus conrad aveva studiato l'apofemia sulle forme di psicosi cioè di uno che fa ho pensato la merda devo andare a casa perché c'ho il gas acceso da chi l'hai capito non lo so allora io dico invece sopravvivenza bravo bravissimo così vivenza e poi estetica ah ma posso di milano ce l'ho no aspetta ripetetemi tutte allora le parole sono angelo psicosi sopravvivenza estetica per me milano ti dico perché milano ti dico perché è greve però ascoltatemi mi raccomando allora ti dico milano perché angelo è un nome tipicamente del sud secondo me un pochino e si sa che milano ha una grande componente di calabri eccetera quindi magari milano e angelo è perché la storia di tanti angeli vabbè tanti ragazzi di nome angelo sono saliti su a milano ma è tipo no sulle nicchie del duomo di milano ci sono gli angeli gli angeli oh esatto oh oh mia bella angelina dice così la canzone tutti i femmine fanno ammurare psicosi perché raga madonna milano è una città che soprattutto se mi vieni magari anche da posti più tranquilli mi crea mi crea delle psicosi sono i milanesi come no io sto benissimo io sto benissimo c'è gente no no non sono i milanesi è in milano che crea psicosi attenzione anche perché c'è oh si si c'è gente che se la ricorda quando faceva la triennale alla cattolica che l'ha vista a moia la prima cosa che ha detto è come sei rilassata come sei rilassata e poi sopravvivenza perché comunque è un po' una zungla a milano e estetica perché comunque è milano dai top anche architettonicamente ha delle forme estetiche molto belle no milano è l'esthetic city dell'italia bravissimo è della moda ma no no è la città della moda la moda esteticamente però a milano non è bene no no non intendevo architettonicamente o a livello estetico visivo no è semplicemente perché è molto estetic come io intendevo anche architettonicamente però è anche vero che è la città della moda quindi poteva valere anche è molto fascista secondo me ma non lo dico con cattiveria dico proprio le costruzioni anche a Varese ho un sacco di costruzioni molto fasciste a me perché affascina il fatto che nonostante sia così agglomerata non mi dà un'idea di caos io lo trovo assurdo perché Roma che è così ampia nonostante tutto mi dà idea di caos amo tu hai avuto un incontro sbagliato con Milano ma perché dite questa no 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 stavo dicendo che questa cosa in effetti a parte zero non sono anti Milano anzi assolutamente ma soprattutto no è che Milano a me sorprende quanto è più piccola rispetto a Roma cioè è proprio piccola ragazzi cioè è proprio piccola capito quindi è giusto che venga collocata anche in questo tipo di ragionamento capisci posso dire anche psicosi da che cos'altro ma tutti quei poveri oh sai quanta gente ha dovuto rinunciare a lavori a Milano che magari conosco che dovevano salire perché magari gli affitti costavano più di quello che potevano guadagnare o perché magari non trovavano materialmente casa perché le uniche offerte vanno anche magari come a Bologna di passaparola cioè uno abbandona perché magari entra l'amico o l'amica che magari sta arrivando che poi gli ha il proprietario amo ti do la mia parola questa che entra è una brava persona cioè nel senso non lo so Milano mi piace come bella comunque ma c'è però non c'entra una Madonna niente Angelo però l'angelo della mia bella Madunina l'angelo azzurro l'angelo azzurro ma anche la mia bella ma poi anche perché Angelo è che Renga ha fatto tanti concerti a Milano canta Angelo posso dire Angelo è il mio numero anzelico cioè mi sento di Angelo perché io vibro con Angelo voi volete portarmi io l'angelo voi non mi capite comunque se trovate un miglior e mi sa che ce la fate facilmente esatto a me piace top totale però voto Milano e andiamo a Milano esatto e allora noi questa puntata invece è finita la finiremo a Milano chi lo sa può essere però potete ascoltarla tutte le domeniche alle 15 per un poveri noi e un poveri voi esatto e ogni mercoledì alle 19 per un poveri non saperlo e Sandro dove? io direi Spotify ma anche se non lo dici tu io direi lo amo mi piace un sacco come costruzione Apple Podcast Amazon Music e direi anche seguiteci sui nostri social sappiamo sia TikTok sia Instagram come stavo di IG trattino basso pop ah pop trattino basso il podcast ce la faccio oppure anche YouTube dove potete seguirci con i nostri video se volete lasciare un commentino noi siamo felizi ma non dimenticate soprattutto di recenzirsi anche su Spotify perché il voto patas brinza a noi ci piace tanto e se alla fine di questa puntata sentite lo stomaco brontolare non è apofenia amo c'hai fame vai magna ciao ciao